Confermare i segnali di crescita visti nel 3-1 alla Ternana, tornare alla vittoria in trasferta, assente dal 29 ottobre a Brescia, rilanciare la corsa a play-off. Sono i tre obiettivi del Bari nel pomeriggio di Ascoli, posticipo domenicale della ventunesima giornata nel campionato di Serie B. Di fronte un avversario terzultimo ma capace di stoppare nella prima uscita del 2024 la capolista Parma al Tardini. È una squadra molto compatta, molto aggressiva, ti lascia poco, ti fa ragionare poco, bisogna essere bravi e veloci di testa e soprattutto cercare di saltare la loro pressione sui portatori di palla. Vistù del fatto che loro aggrediscono bene con gli esterni, aggrediscono con le mezze ali, fanno un 3-5-2, quindi è una squadra molto aggressiva, gioca molto in verticale. Ecco, sfruttano le capacità sul gioco aereo degli attaccanti. Nella settimana che ha portato alla trasferta del Cino e l'Illo del Duca, l'allenatore ha avuto a disposizione anche Gheorghe Puskas, tornato a Bari in prestito dal Genua. Maglia numero 47 per il centravanti che con l'arrivo di Callon e il ritorno di Menez allarga il ventaglio di scelta in attacco. C'è più qualità, più scelta ecco, perché anche Callon che è arrivato si è fatto trovare pronto, anche se era da molto tempo che non giocava una partita o quantomeno i minuti che ha fatto, quindi sicuramente la qualità aumenta. Discorso diverso a centrocampo, il forfè di Cuzzupias potrebbe essere colmato con la permanenza di Acampora, anche se non escluso l'arrivo di un'altra mezzala di qui al primo febbraio. L'ho sentito sempre Acampora sul mercato, per noi non l'ho mai stato sul mercato, per me è un giocatore importante, un giocatore che come Maita per esempio ha attraversato un buon momento e poi adesso sta rendendo bene, come Giomà che prima non andava bene, ci sono momenti che ci sono delle flessioni ma non possiamo discutere le qualità di Acampora. Out Capitan di Cesare al suo posto, uno tra Matino e Zuzek non sono previsti, spiega Marino, altri arrivi al centro della difesa. Di Cesare è un problema muscolare che non è una cosa lunga, quindi non penso che ci sia bisogno di interventi particolari sul mercato. C'è equilibrio tra i difensori centrali, tra Zuzek e Matino, la crescita, ma col lavoro è normale che si cresce, si cresce la condizione da parte di tutti, anche Zuzek si fa trovare sempre pronto quando è stato chiamato. 900 i tifosi bianco-rossi presenti, fischio d'inizio alle 16 e 15, curiosità, ad Ascoli si sfideranno i due allenatori più esperti della B, 69 anni per Castori, 61 per Marino, in due totalizzano quasi 70 stagioni in panchina. Castori è uno dei tecnici con cui ho un buonissimo rapporto e ci sentiamo di tanto in tanto e lo stimo tanto sia come allenatore sia come persone, quindi veramente è una persona eccezionale, fa piacere incontrarci perché significa che resistiamo.